ciao a tutti questa volta mi sono munito del selfie stick perché un po freddo allora di cosa vi parlo niente oggi volevo solo farvi gli auguri di buon anno nuovo e visto che mi trovo alla dacia nei pressi della dacia vi mostro un po qui attorno questa è una zona in cui sono tutte dacia la dacia è la casa di la casa di campagna non so di villeggiatura dei russi quasi tutti hanno una una dacia ma può essere una casetta piccola panoramica sono case più o meno grande ci sono anche delle vere proprie catapecchie diciamo solo per per passare un pomeriggio e fare una una grigliata qualcosa del genere qui penso siano pochissime le persone che vivono permanentemente su queste case sono per lo più per il fine settimana e a quanto ne so fino a qualche tempo fa per esempio questa strada non aveva nemmeno non aveva nemmeno un nome quindi non era possibile anche possibile registrarsi come residenti qui non era possibile avere la residenza in una casa del genere continuo un po passeggiare adesso sì ovviamente siamo in pieno inverno senza neve quindi non è questa gran bellezza però siccome è una giornata di sole ne approfitto d'estate è molto più bello perché tutte queste case hanno i loro giardini loro orti soprattutto in cui coltivano qualcosa non c'è molto da vedere hanno spesso delle recinzioni abbastanza alte specialmente le case più 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 belline aspetta vi mostro questa case se riesco a vedere non si vede molto col recinto così alto di cosa posso parlarvi più più seriamente beh non so una cosa un po di carattere generale ecco per avvicinarsi un po alla alla cultura alla personalità diciamo della russia delle dei russi secondo me russi italiani sono molto simili sotto tantissimi aspetti anche questa casa perché beh mi viene sempre da iniziare con con le robe brutte ma visto che mi è venuta in mente questa per prima ve la dico per esempio per la corruzione il carattere della persona è un po quello di cercare di fare il furbo si è chiaro le persone sono buonissime sono estremamente amichevoli come in italia però diciamo il c'è questo questo sentimento diciamo che fare un favore a un amico è sempre una cosa buona sempre sempre una cosa buona anche se va a discapito della collettività ed è questa secondo me che è alla base di diciamo della corruzione come impulso perché significa fare del bene un vantaggio diciamo a poche persone che magari consideri amici o più vicini a te a discapito di tutti gli altri vabbè ma parlando di cose più positive diciamo il carattere è abbastanza socievole per esempio mi trovo molto più più vicino caratterialmente ai russi che non ai finlandesi che pure sono bravissime persone sia chiaro però come come carattere sono oggettivamente più freddi e poi 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 diciamo come ecco una cosa generale che si può dire è che secondo me quando si tratta si parla di un argomento di qualcosa che è successo in russia di qualsiasi tipo che sia una notizia che sia una notizia di cronaca o di politica o qualche scandalo eccetera bisognerebbe sempre provare a rapportarlo all'italia o al proprio paese se non siete italiani ehm cosa voglio dire con questo immaginare che succeda da noi e e vedere se lo valuteremo con con gli stessi criteri se ne daremo lo stesso giudizio perché ehm spesso secondo me si fa l'errore di 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 trattare gli argomenti che succedono all'estero in altri paesi per i quali si hanno alcuni pregiudizi in modo totalmente diverso da come li tratteremo se succedono da noi magari non ce ne accorgiamo di questo però cosa vi sto mostrando stanno costruendo stanno costruendo una casa allora c'era un po' di di mattoni e materiale da costruzione ehm guardate che bella si vede qualcosa hanno costruito una casetta nuova qua io non ho la minima idea di dove sto andando comunque sempre strada dritta quindi dovrei riuscire a tornare indietro dopo ehm allora dicevo ehm provare a immaginare se tutti questi fatti che ci sembrano magari molto strani ehm se succedessero da noi provare a immaginare che succedessero da noi e provare a rivalutarli perché in genere noi siamo molto consapevoli delle difficoltà delle situazioni delle complessità ehm delle cose che ci stanno vicine ma di tutto quello che è lontano ehm tendiamo a semplificare ehm per esempio quando dicevo la Russia di Putin si tende a vedere tutto quello che succede in Russia come fosse responsabilità quasi diretta di Putin mentre in Italia o anche in altri paesi con cui abbiamo più come dire o una conoscenza un po' ehm un po' migliore oppure che sentiamo più vicini a noi magari lì facciamo tutte facciamo considerazioni un po' più un po' più profonde per esempio se succede qualcosa di brutto in Italia ciò se vi ricordate quella storia veramente terrificante della clinica la clinica degli orrori dove facevano operazioni chirurgiche su persone che erano insomma che non avevano bisogno di questa operazione solo per ricevere contributi regionali è una storia bruttissima immaginate se succedesse in Russia diremo tutti ehm cioè non noi ma i giornalisti scriverebbero ecco nella Russia di Putin succede succedono queste cose qua e in qualche modo si darebbe la colpa o la responsabilità a Putin mentre nessuno in Italia si sogna di dire che questa è colpa o di Berlusconi penso all'epoca fossero ancora Berlusconi o anche di di Renzi nemmeno i critici più più efferati direbbero una cosa del genere perché insomma si capisce che la questione è molto più complessa c'erano molti più livelli in mezzo per esempio il quando eh la polizia ammazza gli afroamericani negli Stati Uniti eh così eh senza un apparente motivo ecco questi episodi tutti li critichiamo anche i giornali americani eh sono molto critici ma la critica è ben specifica eh nei confronti della polizia nessuno si sogna di dire che queste morti sono eh pesano sulla coscienza di Obama no nemmeno i suoi critici perché si capisce che che non c'entra nulla ma c'è qualcosa sì che chiaramente il presidente potrebbe fare o potrebbe aver fatto però insomma c'è una abbiamo una comprensione della della problematica eh riusciamo a capire che eh la responsabilità è molto molto limitata molto molto indiretta mentre ma quando succede su paesi tipo non so Russia Cina Corea del Nord Iran questi soliti paesi che insomma consideriamo un po' nemici o ci fanno considerare un po' nemici un po' dittatoriali eccetera allora la immediatamente diamo la colpa a chi a chi governa lì non so se riuscite a vedere qualcosa ma li la tengo un po' così perché non ho altro da dirvi forse è meglio che fermo qui che faccio altrimenti faccio un video troppo lungo e non lo guarda nessuno va bene allora vi saluto ciao ciao